Abbiamo l'evidenza che il nuovo farmaco, il Tocilizumab, sta funzionando. Sono le parole del direttore dell'unità complessa del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, Giustino Parruti. Un piccolo raggio di sole in un periodo così complesso nella battaglia contro il coronavirus. Adesso lo stiamo dando alle forme più precoci, ha proseguito lo stesso Parruti in una dichiarazione rilasciata ieri sera a Lanza. Cioè quando ci facciamo una idea che il paziente abbia tutti i fattori di rischio per progredire. Abbiamo visto diverse persone già togliere l'ossigeno. La mancanza di un vaccino è la condizione che ci ha reso vulnerabili di fronte alla diffusione del coronavirus. In queste settimane la comunità scientifica si è mobilitata dai medici che sono in prima linea fino ai ricercatori per trovare delle forme alternative di contenimento della malattia tra i farmaci già esistenti per altri scopi. Il Tocilizumab ad esempio è utilizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide e alcuni medici quali Marco Rizzi, primario di infettivologia dell'ospedale di Bergamo, e Paolo Ascerto, oncologo dell'Istituto Tumori di Napoli, Fondazione Pascale, ne avevano intuito l'utilità. Agendo sulle interleuchine, proteine essenziali allo sviluppo del processo infiammatorio, il farmaco è funzionale alla loro parziale inibizione impedendo lo sviluppo abnorme della stessa infiammazione ai polmoni che nei casi peggiori può avere un esito fatale sulla persona colpita dall'infezione. Dallo scorso 19 marzo l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha dato il via libera alla sperimentazione che sta producendo effetti positivi, con le conseguenze che lo stesso Parruti spiega così. Se tutto questo viene confermato è una cosa che può cambiare un pochino la storia di questo affollamento a risvolti individuali, organizzativi e quindi societari. Se si riduce il numero degli intubati e la durata media dell'adegenza, e quindi la durata delle complicanze, questo si ripercuoterà con una ridotta mortalità. La sostanza di queste parole è che se il farmaco continua a dimostrare questo tipo di efficacia può diminuire il numero di persone costrette alla ventilazione assistita, alla terapia intensiva, diminuire le condizioni di stress cui è sottoposto il personale medico e infermieristico che può così gestire con maggiore energia i casi più complessi. Sempre sul fronte della sperimentazione, nelle ultime ore, l'AIFA ha dato il via libera all'uso di un farmaco antivirale. La combinazione Lopinavir-Ritonavir è stata resa disponibile in Italia fuori indicazione autorizzata per i malati di Covid-19, già di norma utilizzato per il trattamento delle infezioni da HIV, un farmaco per uso ospedaliero ma che può essere utilizzato anche a casa. Per il Lopinavir-Ritonavir era stato già condotto uno studio su 199 pazienti di Wuhan che non aveva evidenziato differenze nel tempo al miglioramento clinico e nella mortalità. Tuttavia, i degenti trattati in Cina avevano uno stadio della malattia avanzata mentre i protocolli attualmente in uso presso i principali centri clinici ne prevedono l'utilizzo in fasi più precoci e in pazienti meno compromessi. L'AIFA che si impegna a monitorare costantemente tutte le nuove evidenze che si renderanno disponibili nel tempo. Insomma, il mondo della ricerca e della sperimentazione si muove per trovare alternative e nella giornata di ieri anche il noto virologo Roberto Burioni aveva lanciato un messaggio di speranza che però non deve in alcun modo portare ad abbassare la guardia in questa dura battaglia contro il coronavirus.